facciamo chiarezza sul comportamento del nuovo sistema di casa dj il mavic mini è l'ultimo nato di casa dj in tema di sistemi armand dall'uscita ufficiale ad oggi però si sta assistendo ad una lamentela mediatica da parte dell'utenza che chiede chiarimenti sul comportamento in volo di questo sistema infatti più di qualcuno avrebbe riscontrato problemi di pilotaggio con conseguente caduta del drone dall'esame di alcune pubblicazioni video e da quanto appreso dai report dell'utenza si è riscontrato che più che delle cadute si è trattato di atterraggi pesanti che il sistema avrebbe eseguito senza il controllo del pilota in altre parole durante il volo il sistema avrebbe avuto una progressiva perdita di quota senza rispondere ai comandi del radio line atterrando in maniera pesante laddove si trovava è chiaro che una si fatta situazione ha creato non poca sorpresa per chi lo ha e per chi vuole acquistarlo quindi la domanda che ricorre in maniera copiosa è cosa sta succedendo al nuovo dj possiamo dire che non è il caso di fare allarmismi inutili perché caduta rovinose di fatto sono quasi inesistenti o comunque rientranti nella fisiologica casistica di questi sistemi mentre sugli episodi posti in essere occorre attenzione sui sistemi an mand quando si verificano situazioni analoghe molto spesso dipende dal sistema delle batterie infatti il mavic mini monta batterie agli ioni litio al posto delle classiche batterie lipo degli altri sistemi questa probabilmente è stata una scelta progettuale dettata dal contenimento del peso del drone facendolo rientrare entro i 250 grammi come previsto dalla normativa tale scelta però ha comportato l'adozione di batterie a basso livello di scarica con conseguente riduzione dell'erogazione dei picchi di corrente laddove richiesto il sistema infatti durante il volo ha spesso trasmesso il messaggio di carico massimo raggiunto con relativa perdita di quota ciò significa che il drone non aveva più capacità di compensazione delle condizioni di volo in quella fase quindi il progressivo calo di tensione della batteria provoca l'atterraggio forzato e spesso pesante del sistema cosa fare la risposta è semplice è un sistema da 250 grammi e come tale va trattato non si può pretendere di volare come se fosse un sistema di classe superiore la dj sta lavorando per analizzare la situazione ma le raccomandazioni per chi usa questi volatili sono di norma 3 non volare in condizioni limite non stressare le batterie evitare possibili interferenze radio sul sistema una attenzione particolare va dedicata alle batterie infatti per mantenerle in buono stato di conservazione occorre essenzialmente a evitare gli stress termici perché il freddo degrada le prestazioni b tenere sempre un margine di carica di circa il 30 per cento evitando così di tirare il collo agli elementi interni ci riporre le batterie in modalità storage in caso di inutilizzo prolungato in ogni caso assisteremo agli sviluppi della situazione seguendo anche eventuali notizie da parte della dj